Grazie a tutti. Scrive al neoministro delle infrastrutture Paola De Micheli tratto di importanza strategica. Subito un tavolo di confronto tra Ministero e regioni interessate. Vediamo il servizio di Berluigi Boraggine. L'allargamento della strada statale 85 Venafrana aumenterebbe la sicurezza dei tantissimi automobilisti che ogni giorno la percorrono, oltre a regolarizzare il traffico di un'arteria stradale strategica per i collegamenti tra Abruzzo, Molise e Campania. Lo ha detto Aldo Patriciello, eurodeputato e membro del gruppo PPE al Parlamento europeo, intervenendo sulla necessità di ampliare la strada statale 85 ed in particolare il tratto che congiunge i comuni di Vairano, Patenora e Sesto Campano. Stiamo parlando, spiega l'euro parlamentare azzurro, di un tratto stradale di grande importanza strategica, il principale punto di accesso per tutti coloro che venendo da sud vogliono raggiungere le stazioni sciistiche del Matese, dell'Abruzzo o le aree costiere adriatiche, una strada che è interessata da anni da fenomeni di dissesto idrogeologico, con la conseguenza che il tratto in questione è congestionato spesso dal traffico, divenendo difficilmente percorribile e soprattutto meno sicuro. È una situazione, aggiunge Patriciello, che va avanti da tanto, troppo tempo e che mortifica un'area geografica già ampiamente penalizzata dall'assenza di autostrade, aeroporti e linee ferroviarie ad alta velocità. Per questo Patriciello ha deciso di scrivere al neoministro delle infrastrutture e dei trasporti, Paola Di Micheli, per informarla della situazione e sollicitare così un suo tempestivo interessamento sulla vicenda, nella speranza che si possa aprire al più presto un tavolo di confronto tra Ministero e Regioni interessate nel pieno rispetto dei ruoli e delle competenze. Quello che è importante in ultima istanza, conclude Patriciello, è che ci sia la volontà di migliorare la situazione e in sostanza la qualità della vita dei cittadini. Adesso leggiamo i giornali regionali. Primo piano Molise, sottosegretari Federico Silurato da Conte e Di Maio. Il nome del deputato era sulla lista fino alle 8 di ieri mattina, la doccia fredda al termine del Consiglio dei Ministri. Lui minimizza, per me non cambia nulla, ma la mancanza di rappresentanza al Molise va compensata. Il senatore Di Marzio, sempre più distante dai vertici del movimento, sono sconcertato, spero si apra subito una riflessione seria. Al riguardo il direttore responsabile di primo piano Molise, Luca Colella, scrive un editoriale, il Molise non esiste, vale la pena cancellarlo. D'Enafro, statale 85 pericolosa, Patriciello scrive alla Ministra De Micheli, l'euro parlamentare sollecita l'ampliamento delle carreggiate, abbiamo sentito il servizio di boragine in apertura. Poi va al concerto a Pesco Pennataro, ma non ci sono posti per i disabili, vergognoso, il comitato si scusa. Incendi, uno a Frosolone, l'appartamento va in fiamme, notte di terrore per una coppia di anziani, poi mille rotoballe a fuoco, invece tra San Salvo e Montenero. Sport, Giampaolo lancia la sfida, parliamo del campo basso, vincere il campionato, dice l'attaccante ancora pronti a rialzarci da Tolentino. A Agnonese, l'Olimpia si riprende il classe 2000 a Barbato dal Gravina, Vasto Girardi, trasferta dura ad Avezzano, Palermo, loro sono da vertice. Il quotidiano del Molise, reddito di residenza, Molise alla ribalta internazionale, sta rispotendo, grande interesse, l'iniziativa del consigliere tedeschi per combattere lo spopolamento, notizia sulla OM, anche della CNN. L'orrore, la crudeltà, quattro cagnolini chiusi in busta e gettati nel torrente, rabbia e sgomento sui social è accaduto a Sepino. Molise al secondo posto in Italia, l'Istat certifica export da record, mercato estero in crescita per le produzioni locali. La Tunisia si prepara al voto a Termoli, un seggio per scegliere il nuovo presidente. La gratitudine del questore di Isernia e i poliziotti che hanno salvato la vita ad una donna disperata. Viabilità stata alle 85, Aldo Patriciello scrive al ministro, trasporti, dossier ferrovie, sindacati in pressing sul Niro, frosoloni e anziani salvati da una trappola di fuoco. Dopo il successo di Magna Storia, Isernia si vuole bissare con Brindisernia. Campo basso, inclusione sociale, il convitto Mario Pagano sale in cattedra. Sport, cambi in vista di Tolentino, dentro Tencorang, Dalmazzi e Fabriani. Serie D, vasto Girardi al completo ad Avezzano, Farina siamo al 70%. Eccellenza, big match in anticipo tra Venafro e Roccasicura, calcio a 5, Cus, oggi il quadrangolare. Le testate nazionali, il Corriere della Sera, l'Europa avvisa, la Germania, il debutto di Gualtieri all'Ecofim, Dombrovskis sulla flessibilità decideremo caso per caso. Vi adotti a rischio falsificavano dati e controlli, Milano capitale della scienza e della ricerca. La squadra dei vice, i renziani accusano, esclusi tutti i toscani, la polemica nel PD. Quindi, gradimento, sale Conte e Salvini in ripresa, più consensi per il governo. La Repubblica, fiducia nel governo, per ora così così. Conte 2, gradimento al 44%, Lega primo partito ma in flessione, soprattutto Salvini. PD stabile, 5 stelle in ripresa, la lista dei sottosegretari, prevalenza dei maschi e poco nord. Il ministro Provenzano, fermare l'emigrazione. I renziani immeditano lo strappo, 31 parlamentari sono pronti ad uscire. Le paure di Netanyahu, il più forte, parliamo di esteri. E poi, ponti, report falsi, arrestati dirigenti di autostrade. Il pasticciaccio brutto del metro a Roma. Il messaggero, flessibilità, primo passo UE, al vertice Ecofin con Gualtieri. Bruxelles apre sugli investimenti in deficit per la ripresa. Attacco tedesco alle misure di Draghi, alto là dell'Europa. Berlino deve spendere di più. La carica dei 42 tra vice sottosegretari, Renziani, Toscani fuori, una vendetta. Salvini e Berlusconi, pranzo e accordo per le liste regionali. Metropolitana con il bianchetto per taroccare le carte scandalo. Ieri, caos sulla linea B. Le interviste a Federica Pellegrini, il mio stile libero mette paura agli uomini. A Matteo Berrettini, Roma mi manca ma ora mi prendo il mondo. Il giornale, trombati e piazzati, PD e 5 Stelle, si spartiscono le ultime poltrone. Il Ciancelli premia Uomini e Sud, da Miss Gaff al pluribocciato, palazzo occupato da Miracolati di lusso. Berlusconi e Salvini, fronte contro il governo. Accusato di stupro, l'assistente gay di Vattimo, pensiero debole ma carneforte. I falchi UE, impicchiata su Draghi e l'Italia, fa la figura del pollo. Autostrade, altri arresti, Movimento 5 Stelle, via le concessioni. Il sole 24 ore, privatizzazioni, nuovo piano per incassare 5-6 miliardi. Valtieri considera non realistico l'obiettivo di 18 miliardi previsto nel DEF. Per rispettare le condizioni di Bruxelles servono progetti industriali e governance. Si avvice sottosegretari Castelli e Misiani al MEF, Buffagni va allo sviluppo, tensioni PD, nessun toscano, i Renziani all'attacco. Lotta al cambiamento climatico, investimenti ecosostenibili, la svolta green dell'Europa. Movimento 5 Stelle, un dossier verde da 44 miliardi. Dopo Draghi, anche l'Eurogruppo rilancia chi può aumenti la spesa. Al via la rivoluzione digitale in banca, più concorrenza nell'offerta dei servizi. E andiamo in chiusura con la Gazzetta dello Sport. A testa, a testa, Sarri Conte, duello a distanza. Alle 15 Fiorentina Juve, alle 20.45 Inter Udinese. Il tecnico bianconero debutta a Firenze, Mandzukic a casa, potrebbe andare via. I Nerazzurri a caccia della terza vittoria di fila contro l'Udinese, si insiste con Lukaku. Lo stravagante Ribery cerca un nuovo trono, prima da titolare contro Ronaldo. E Icardi, oggi che fa, coppia con Neymar, l'argentino, all'esordio, nel Paris Saint-Germain. Prima di salutarci, vediamo quali sono i programmi che andranno in onda oggi sulla nostra rete. A partire dalle 11 Conto alla Rovescia, alle 13 Camminando Molise, alle 13.50 Musa TV, alle 14 il TG, alle 16 Conto alla Rovescia. Alle 18 Speciale Transumanza, alle 19.30 torna in diretta le informazioni, alle 21 Paese Mio, alle 23. L'ultimo appuntamento con il telegiornale. È tutto anche per questa mattina, grazie come sempre per averci seguito, arrivederci. L'ultimo appuntamento con il telegiornale.